Se il mondo dell'università e quello del lavoro viaggiano di pari passo, il Carrier Day organizzato da Uniurb è il più importante momento di incontro tra questi due ambiti. Si tratta di un evento arrivato alla 21esima edizione che si articola in laboratorio di incontri con le imprese, in cui gli studenti laureati e laureandi dell'Ateneo possono mettere a fuoco i percorsi migliori, conoscendo i progetti professionali che hanno in serbo le aziende. Il Carrier Day si svolge in due modalità. Alcune aziende partecipano solo in modalità virtuale dal 21 al 28 ottobre, mentre altre sono state presenti quest'oggi a Urbino al Carrier Day in presenza, presso la Sala del Trono di Palazzo Ducale. Per l'occasione questa mattina sono stati anche premiati i cosiddetti studenti capolavoro, ovvero i laureati di Uniurb di un certo numero di anni fa, che sono stati riconosciuti dall'Università di Urbino come coloro che hanno realizzato una carriera di rilievo. Sono ben sei i laureati capolavoro, Cecilia Felici, Enrico Grassi e Giuseppe Basile, che hanno ritirato fisicamente la loro pergamena, e Angelo Vannini, Camilla Brivio e Lucia Casadei, che si sono collegati da remoto a causa di impegni lavorativi. Si manda un messaggio ai giovani che le opportunità, la possibilità di raggiungere posizioni molto importanti, anche da un punto di vista professionale, dipende anche dalla loro determinazione. Il nostro compito come Ateneo è quello di fornire agli studenti gli strumenti per muoversi e per capire come sta cambiando l'economia, la società. Poi però sta loro, devono avere determinazione. Se uno vuole raggiungere un obiettivo, molto spesso lo si raggiunge. Io penso che di nuovo l'elemento fondamentale sia quello della formazione. Già da anni noi riteniamo che l'orientamento non riguardi solo l'ingresso nel mondo accademico, ma riguardi anche e soprattutto l'uscita e quindi il momento in cui i nostri giovani laureati vivono la fase più critica, se vogliamo, della loro vita. Perché escono da un percorso di studi in cui hanno maturato determinate esperienze e si affacciano verso un mondo che per loro è completamente nuovo, completamente diverso. E noi in questa fase vogliamo rappresentare quell'anello di congiunzione che permette di mettere in contatto laureate e laureati con il mondo delle imprese. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti con eventi come il Career Day. Questo è anche il motivo per cui oramai da anni promuoviamo questa celebrazione dei laureati che secondo noi nel corso degli anni hanno dimostrato di saper mettere in pratica quanto hanno acquisito nel percorso di studi attraverso una carriera che noi riteniamo brillante. E questo per noi è importante perché presentare ai nostri studenti, alle nostre studentesse questi esempi possa essere per loro una sorta di stimolo a dare il meglio di sé e a non avere paura del futuro.